i cavalli sono in partenza partiti Archon Pyre si porta in vantaggio nei confronti di O3TAP quindi all'esterno segue Unique Diamond in quarta posizione risale bene all'esterno il patron Pepe a precedere Cadabration, Caron, Dimonio, Strong Hunter ancora Run Generation, Sapilonzana, Dairun quindi Ready Maggio, Magic Show con in coda Soligo e Maria Salvador gruppo comunque ben sgranato alle spalle di Archon Pyre ora pressato all'esterno da Unique Diamond che sta passando il leggero vantaggio poco prima dell'imbocco della curva di fondo quindi Unique Diamond che ha perfezionato il sorpasto e ora conduce davanti a Archon Pyre in terza posizione ben sistemato il patron Pepe a precedere O3TAP quindi ancora Cadabration per linee interne Caron, Dimonio a largo Run Generation quindi Strong Hunter, Sapilonzana e il resto del gruppo sempre in vantaggio deciso Unique Diamond che affronta al comando l'addirittura di arrivo nei compronti di Archon Fire che ha all'esterno il patron Pepe cerca spazio per linee interne O3TAP con lungo la corda anche Caron Dimonio quindi Cadabration segue Strong Hunter più a centropista Ready Maggio sta allungando Unique Diamond nei compronti di O3TAP che ha all'esterno Cadabration quindi anche Royal Status più all'esterno è passato O3TAP nei compronti di Unique Diamond quindi Cadabration si avvicina anche Super Drago quindi Royal Status nel tratto finale O3TAP attaccato da Super Drago i due in lotta O3TAP all'interno e Super Drago a largo finale incertissimo con Super Drago che appariglia sul palo O3TAP poi Unique Diamond Cadabration e Caron Dimonio ma andiamo a rivedere con calma tutto O3TAP era passato ma nel finale ha trovato il finale incisivo di Germano Marcelli in sella a Super Drago che col numero 12 lo stampa sul palo poi l'uno di O3T per il terzo posto sono praticamente in linea vicinissimi Cadabration col 2 all'esterno e il 10 di Unique Diamond all'interno al quinto posto per completare il quinte il 15 di Caron Dimonio quindi ricapitolando la vittoria dovrebbe essere andata al numero 12 di Super Drago al posto d'onore l'uno di O3TAP per il terzo posto sono vicinissimi il 2 di Cadabration all'esterno e il 10 di Unique Diamond all'interno e ci sarà bisogno del risponso del giudice d'arrivo mentre al quinto posto chiude e completa il quinte il 15 di Caron Dimonio è tutto per oggi a risentirci mercoledì col prossimo convegno di Galoppo